amici di News Formula 1 buongiorno buonasera a seconda di quando ci state ascoltando e benvenuti ad una caldissima sia per il meteo che per gli argomenti una caldissima puntata di Race Tech la rubrica di News Formula 1 che si occupa di seguire le gare e gli approfondimenti tecnici a Montavale dei Gran Premi. Siamo eh sul limitare della pausa estiva si è disputato da poco il Gran Premio di Spa e lo commenteremo sia dal punto di vista tecnico che con qualche eh breve indicazione con il nostro ingegnere Riccardo Romanelli. Buonasera Riccardo. Ciao Michele e buonasera a tutti. Ricordiamo sempre ciao Riccardo che Riccardo è eh ingegnere impiegato in World Racing Cars e coautore del libro Endurance Wack dalle gruppo C ai prototipi ibridi. Io ovviamente come tutte le volte vi ricordo fin da subito di cliccare sulla campanella per essere sempre informati sulle nostre iniziative. Una bella spoliciata per farci sapere se questo video vi sarà piaciuto e ovviamente commenti eh a questo video o a tutta la pletora di video che eh News Formula Uno vi mette a disposizione comprese il sito e tutte le altre nostre manifestazioni. Ma partiamo subito Riccardo introducendo quello che è successo. Leggerò la classifica dei primi undici perché la notizia eh principale è quella che vedete nella foto ovvero George Russell squalificato dopo aver vinto formalmente il Gran Premio di Spa per eh una vettura che è stata trovata peso di addirittura e mezzo non è possibile probabilmente nessun ricorso dal momento che Mercedes ha ammesso praticamente subito l'errore. Andiamo pure a leggere quello che è successo. Russell vince a mio parere vince il Gran Premio di Spa in un un'ora diciannove secondi cinquantasette poi abbiamo Hamilton a cinque decimi Piastri su McLaren a un secondo e centosettantatré quindi una le primi tre finiscono in meno di un secondo e mezzo poi Leclerc Verstappen Norris e fino a Norris che è sesto siamo a nove secondi otto quindi una classifica che si chiude in dieci secondi nei primi sei poi Sainz Perez Alonso Ocon su Alpine grande prestazione questa e Ricciardo su Vcarb leggo come come la introduzione fino all'undicesimo posto perché distante la qualifica la squalifica di Russell Ricciardo agguanta un punto cominciamo subito con i temi i temi tecnici Riccardo a corredo di quello che è successo su cui comunque ti chiederò un commento vincono comunque la si voglia mettere vincono le due Mercedes vincono le due Mercedes dopo aver iniziato un weekend in sordina eh non solo con le prestazioni ma anche considerando il fatto che gli aggiornamenti che hanno portato eh per il Gran Premio Olandese per una volta vengono cassati da entrambi i piloti e quindi si può dire che effettivamente stavolta per Mercedes ha fatto un buco nell'acqua almeno da quel punto di vista. Poi eh si trovano in pista si trovano in pista per la gara eh certo con condizioni relativamente calde differenti da quali sono le prove e nell'ultima parte del Gran Premio si trovano ad essere la vettura migliore tant'è vero che vincono abbastanza agevolmente pur con un piastro in monta. Ti faccio parlare cos'è successo con Mercedes? Come mai sono così venuti fuori in queste gare e aggiungo hanno vinto questa gara dell'anno senza necessariamente avere la vettura più forte? Qual è il loro il loro segreto secondo te? Il Gran Premio del Belgio hanno dato una prestazione che non non si aspettava nessuno no? Guardando il risultato delle libere. È pur sempre vero però che probabilmente in questo Gran Premio il risultato delle libere è stato poco indicativo di quello che poi abbiamo visto in gara perché si è disputato in condizioni di meteo differenti. C'è stato anche dal loro punto di vista una parte fatta con il fondo che poi hanno deciso di accantonare temporaneamente ripristinando il fondo alla specifica precedente quindi in realtà con la mescola dura con questa pista che ha una larga parte del manto stradale rifatto abbiamo visto un'assenza di graining quindi può darsi che un po' per tutti e quindi può darsi che quella condizione che abbiamo visto domenica in effetti non abbiamo avuto modo di vederla in preview durante le libere. Quello che si può dire però è che in qualche modo è un trend che si è ripetuto anche negli anni scorsi. Anche lo scorso anno Mercedes era partita molto indietro e ha dimostrato comunque di essere nell'equilibrio del campionato la squadra che ha saputo fare gli step evolutivi e miglioramenti in termini di performance lungo il lungo il l'avanzamento del campionato più consistente rispetto agli altri. In questa gara effettivamente cioè un 1-2 è stato in poche parole eliminato solamente dalla squalitica di Russell però da un punto di vista delle performance che abbiamo visto in gara diciamo i valori in campo erano quelli. Quello di Mercedes effettivamente non presto al fianco a critiche in questo gran premio dal punto di vista tecnico diciamo delle prestazioni purtroppo presta il fianco dal punto di vista del setup della vettura di Russell a cui rubano la seconda vittoria dopo quella del 2020 in cui avevo sostituito Hamilton a Sakir se non ricordo male e anche lì un errore della squadra dove aveva relegato poi in ottava posizione in questo caso addirittura squalificato e quindi personalmente questo è il mio pensiero mi dovrò servire una settimana o più dei commentatori di Sky che inneggeranno al al re nero alla leggenda o qualcosa del genere comunque uno pilota che si è lamentato della squadra subito appena essere sceso in dalla dalla vettura per poi aver vinto per squalifica altrui ma chiederei a salvo in regia in merito a questo punto di farci vedere un grafico che mette a confronto fin da subito un la prestazione di Hamilton con quella di Leclerc Hamilton è il vincitore di fatto e Leclerc su Ferrari arriva quarto ovviamente agguanta il podio in questa in questa nuova questa nuova versione del Gran Premio grazie a Mercedes è stato detto però neanche da qualche commentatore che in questa gara Ferrari ha patito diciamo subito il discorso di problemi di degrado al termine dello stint a me non sembra così tu hai qualcosa da dire a riguardo no guarda io sinceramente non non sono assolutamente d'accordo perché se guardiamo la progressione dei tempi sul giro e guardiamo quello che accade nella fine dei tre stint che stiamo vedendo intervallati dai due cambi gomme non non si nota assolutamente una risalita dei tempi quindi direi che Ferrari non ha avuto degrado ma allo stesso tempo però possiamo dire che non ha avuto degrado Mercedes non l'ha avuto McLaren non l'ha avuto Red Bull non l'ha avuto nessuno e quindi questo forse è conseguenza di un utilizzo generalizzato della mescola hard su una pista che ha avuto una un rifacimento abbastanza esteso della pavimentazione e quindi probabilmente l'assenza di degrado che ripeto hanno avuto che nessuno ha avuto direi che non possiamo assolutamente andare a cercarla su Ferrari certo quindi abbiamo visto Mercedes abbiamo toccato un secondo Ferrari su cui comunque torneremo un pochino più del dettaglio io adesso passerei subito velocemente ai soliti grandi sconfitti di giornata i primi sconfitti di giornata quelli che da circa dieci gare sono gli sconfitti di giornata sa è McLaren McLaren agguanta il terzo poi è un secondo posto purtroppo per Russell il terzo posto con con Piastri e si presenta in pista il giovedì direttamente insultando il suo pilota Norris per e anche un pochettino insultando l'intelligenza del pubblico da parte dell'ingegner Stella con una ricostruzione un po' particolare un po' sua di quello che è successo in Ungheria a fine gara per Piastri addirittura si avvicina in classifica mondiale a Norris proiettandosi anche diciamo per diventare primo pilota attenzione io non sto affatto dicendo che la prestazione di Piastri non sia valida anzi è molto meglio quest'anno del compagno del compagno di scuderia ma credo che ci sia qualche problema interno in questa scuderia di cui forse dovranno un attimo parlare la gestione dei piloti non mi sembra efficace e Norris che sta dimostrando parecchi limiti quest'anno di guida e di tenuta mentale non mi sembra essere supportato granché dal team anzi dico proprio per niente quindi ho come il timore che Piastri sia un pochino più favorito rispetto al compagno di squadra all'interno di qualche logica di scuderia ma cosa possiamo dire dal punto di vista tecnico anche questa volta McClaren si presenta in pista con la vettura a tratti migliore fa vedere delle cose egregie nel free practice per poi fondamentalmente sciogliersi gara questa di questa in questa tornata addirittura sono riusciti a sbagliare fa virgolette le qualifiche ma erano in condizioni molto complicate in questo caso sembrano diciamo addirittura aver fallito completamente quella che era la prestazione in gara nonostante a tratti siano sembrati veloci tu come la vedi per quello che riguarda McClaren beh anche in questa gara hanno raccolto poco molto poco rispetto a quello che sulla carta era la performance della vettura prima di arrivare nel weekend del belgio e non dimentichiamo che nonostante una gara sofferta anche per quello che riguarda Red Bull comunque rispetto al diretto inseguitore in classifica mondiale in questa gara nella quale abbiamo visto anche un Verstappen in versione Pecorella che chiedeva Norris forse spinge cosa faccio cioè abbiamo visto una diciamo il rovescio della medaglia rispetto alla persona incontenibile nei team radio che abbiamo sentito in Ungheria però nonostante le difficoltà in casa Red Bull nonostante una scelta probabilmente io non so se dire sbagliato o no perché comunque viaggiare con così tanto carico aerodinamico sapendo che le previsioni della gara erano comunque da immaginarsi una gara asciutta non fai una scelta così radicale solo per avere un vantaggio in qualifica tanto più che sai che hai il tuo pilota di punta che deve comunque arretrare di dieci posizioni per la sostituzione della componente termica della Power Ioni però detto questo in economia del campionato del mondo anche in questa gara di grossa difficoltà per Verstappen e per la Red Bull comunque non ci hanno perso neanche un punto anzi perché Norris è comunque finito dietro Piastri ha accorciato la classifica rispetto a Norris allora c'è da dire questo però che sono almeno direi 20 anni ma potrei dire io penso di non essere smentito nel dire di più io non ho mai visto un gran premio del belgio per le caratteristiche molto tecniche molto veloci della pista terminare a fine gara dopo tutti i giri con come giustamente ricordato all'inizio i primi sei nei dieci secondi e diciamo entro dodici secondi una buona parte del gruppo quindi se al dopo l'uscita dalla source Norris si fosse messo al posto di o a fianco di Hamilton o appena dietro Hamilton probabilmente oggi commenteremmo un risultato totalmente diverso assolutamente è sempre vero che però sai a maggior ragione in una situazione di campionato si equivalgono la cosa sta così no assolutamente adesso consentimi di chiarire un attimo questo punto Norris sta sicuramente vivendo una involuzione come come pilota quest'anno è particolarmente debole soprattutto nei punti chiave e la prestazione di oggi è assolutamente ascrivibile alle sue mancanze è finito largo in curva 1 ha messo due ruote sulla ghiaia e la sua gara fondamentalmente è finita lì perché il resto del 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 gran premio lo ha passato invischiato anche lui nel trenino dei vari DRS e non è mai riuscito diciamo a insomma a farsi valere in quel punto come giustamente sottolineato tu ha finito comunque sesto a 10 secondi dal vincitore farei vedere un attimo però il confronto col compagno di squadra abbiamo un grafico a riguardo 3 2 1 e soltanto dall'ultimo stint si può vedere che c'è una differenza di prestazioni che però è a mio giudizio ascrivibile dal fatto che nell'ultimo stint negli ultimi giri Norris si è trovato in intruppato nel gruppetto il famoso gruppetto del del DRS il trenino DRS e da lì in poi i tempi si sono naturalmente alzati quindi sei d'accordo con me cosa ne pensi i due si equivalgono fondamentalmente ma c'è un problema di mentale più che altro di Norris e comunque le prestazioni della vettura ci sono come vedi sì le prestazioni sono molto simili tra i due piloti è chiaro che in questa circostanza di chiara quello che è successo come episodio dopo la prima curva da parte di Norris gli ha precluso la possibilità di stare nel gruppo di testa e giocarsi una gara totalmente diversa però se lo guardiamo sul passo gara nella fase iniziale centrale conclusiva dello stint a parte quel piccolo distingo che giustamente hai fatto potremmo dire che le cose sono ovviamente si ricalcano in buona sostanza ovviamente stiamo deviando un po' dalla tecnica pura proprio perché questa settimana race tech pongerà anche da commento ai gran premio quindi nel discutere la diciamo la prestazione di McLaren in questo caso cerchiamo di tenere conto anche di quello che sono le differenze dei piloti di come possiamo approfondire la cosa dal punto di vista giornalistico abbiamo visto McLaren dove comunque Norris ha insomma si è creato dei problemi da solo nella propria prestazione e ripeto per giudizio non è per niente supportato dal team e questo potrebbe essere un problema in futuro dietro finalmente è arrivato Charles Leclerc dietro al a piastre ovviamente eh con la squalifica di Russell guadagna un podio eh questa Ferrari bistrattata a questa Ferrari che non ne azzecca una questa Ferrari che eh qualcuno ci ha addirittura detto che come News Formula Uno eh abbiamo dato pubblicità a una probabile penalizzazione in termini di prestazione di Ferrari dovuta all'introduzione del controllo della flessione delle ali cosa che non mi risulta nessuno di News Formula Uno abbia mai dato a intendere ma eh questa Ferrari così tanto bistrattata dicevo a quanto a un podio a quanto a una position e un podio con Leclerc ieri Leclerc ha rifilato sette decime a compagno di squadra oggi circa eh quattro circa dodici secondi ma entrambe le Ferrari vi leggero nelle posizioni di testa perché alla fine anche Sainz è arrivato settimo se non ricordo male poi adesso confondiamoci un attimo con con le con la squalifica quindi cosa possiamo dire della prestazione di Ferrari che comunque è sia un attimo calmata rispetto alle alle agli aggiornamenti progettando probabilmente di rientrare in forze dopo la pausa estiva beh mai tutto sommato non è molto distante da quello che avevamo previsto e quello che abbiamo commentato nelle nelle occasioni precedenti perché si è fatto un grandire in negativo sul fatto che gli aggiornamenti non avevano funzionato si è parlato a lungo di questo però come possiamo vedere alla fine in Ungheria la Ferrari ha fatto una prestazione siamo venuti qua a Spa e dal mio punto di vista Spa è una pista che va a decretare la bontà di una vettura così come come può accadere a Barcellona no? Non ci sono molte piste nel mondiale oggi cioè pensiamo Spa pensiamo Silveston pensiamo Barcellona queste sono le piste dove c'è comunque un insieme di eh di situazioni tra curve di bassa velocità trazione parte mista alta velocità curvi di alta percorrenza quindi alla fine hanno fatto una gara eh in stretta vicinanza a Red Bull e comunque nel gruppo di quelli che sono arrivati entro diciamo i dieci secondi alla fine della gara no? Quindi sostanzialmente se vogliamo criticare eh quello che non ha saputo concretizzare Ferrari dagli dagli aggiornamenti precedenti però è sempre vero che non è che gli altri abbiano preso il largo ci siano delle differenze imbarazzanti nelle performance in gara perché comunque anzi il fazzoletto si è talmente richiuso che forse penso che in questa situazione anche per le squadre potrebbe essere addirittura controproducente portare delle parti nuove senza essere convinti di un delta apprezzabile perché questo ti sconvolge un po' piano di lavoro nel libero e non ti permette di avere il setting ottimale per la gara perché se le gare di qui in avanti dovessero veramente confermarsi così ristrette è meglio avere un setting perfetto e giocartela per uno o due secondi nell'arco della gara piuttosto che sprecare tra virgolette una sessione di libere montando e smontando parti che poi alla fine decidi di non adottare in gara no quindi cioè da questo punto di vista la gara del belgio ci ha detto molto certo abbiamo visto fra l'altro nel grafico proiettato precedentemente che i tempi di Leclerc più o meno si equivalgono con quelli del vincitore con quelli di Hamilton e questo la dice lunga su quella che è la forbice di competitività attuale dell'intero parco delle vetture di formula 1 perché in pratica si stanno battagliando delle vetture che hanno più o meno tutte le stesse prestazioni abbiamo visto anche prima insomma si può dire che a questo punto equivalendosi le prestazioni dobbiamo anche un pochino chiedere forse scusa a Ferrari nel senso oltretutto considerando che anche Mercedes in questa propria in questa occasione ha fallito fra molti virgolette gli aggiornamenti ed è stata costretta a montarli frettolosamente nel camion e rimandarli a Bracley tu cosa ne pensi? ma concordo cioè io come ricorderai non sono mai stato critico nel considerare che quando introduce un aggiornamento e non ti dà un risultato sperato cioè con questa classe di vetture a questo livello di maturazione non stiamo parlando di salti qualitativi tra una 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 release e l'altra così massicci quindi quando diciamo abbiamo fallito cioè l'aggiornamento di questo nuovo componente è fallito anche per esempio in questa gara in Belgio Mercedes ha deciso di portare questa introduzione poi lo stiamo vedendo sì ma di cosa ma di cosa parliamo a livello di performance perché se a livello di punti di carico no come si dice cioè se parliamo di un punto di carico è un millesimo del coefficiente di deportanza in questo caso. Ok Riccardo a questo punto parliamo eh dell'ultima parte diciamo da discutere e su questo gran premio e torniamo un attimo dal punto di vista più tecnico vorrei discutere con te dei secondi grandi sconfitti della giornata ovviamente i campioni del mondo di Red Bull. Eh per farlo io passerei da questo grafico al diciamo a un confronto sulle ali. Eh si è detto moltissimo eh a commento di questo gran premio che Red Bull eh ha portato un un assetto particolarmente carico eh rispetto alle altre vetture. Eh e vorrei un tuo commento su questo considerando anche che eh vista la natura del circuito e visto il fatto che comunque sapevano di dover in qualche modo recuperare con Verstappen che è stato autore della pole position ma ha dovuto lasciare per la penalizzazione avendo cambiato la il motore di combustione interna e eh quindi contando il fatto di dover recuperare una ala troppo carica questo sentire i commentatori ovviamente e eh accoppiata al al motore nuovo comunque hanno portato una gara abbastanza incolore da parte del campione del mondo. Cosa pensi che sia successo a Red Bull nelle ultime cinque gare in termini di prestazione? Ovviamente hanno perso diciamo la preminenza rispetto alle altre vetture e questo può succedere eh ma eh cominciano ad avere dei problemi non da poco magari forse le idee addirittura non chiare oppure hanno dovuto eh correre con un assetto eccessivamente carico per una pista come SPA perché non si possono permettere altrimenti? Ah eh io penso che allora parlando nello specifico di quello che è accaduto in questo weekend eh una possibile credo che quello che ha scombinato i piani di Red Bull nella scelta di un un setting di maggiore carico aerodinamico sia stato quello che abbiamo visto in gara di assenza di degrado perché è chiaro che partendo consapevoli di avere il proprio pilota di punta con una retrocessione di dieci posizioni per il cambio della parte termica della power unit è chiaro che una modalità può essere quella di eh recuperare e quindi dover recuperare nella gara vuol dire sfruttare la performance della tua vettura venendo fuori sulla distanza e uscire sulla distanza dello stand vuol dire avere meno degrado degli altri avere meno degrado degli altri ti comporta ovviamente di avere più carico per far partire meno il 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 set dei 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 pneumatici è chiaro che poi l'evoluzione della pista dallo scorso anno a quest'anno è stata importante eh non c'è stato degrado per nessuno le performance che sono emersi in gara erano probabilmente anche di una vettura che non credevano eh potesse essere una loro rivale prima e quindi eh di casi Mercedes quindi credo che la scelta questa scelta tecnica alla luce di quello che abbiamo visto in gara si possa sicuramente dire sbagliata perché eh del resto eh vi ricordate lo scorso anno nell'errore dell'estremo carico era caduta proprio Mclare no? Riccardo scusami ti devo fermare un'altra volta perché sei andato siamo andati via tutte e due dobbiamo ripetere anche questa ti chiedo scusa ma è andata proprio via eh scusami riparti quando vuoi ok ok ma parlando della gara del Belgio direi che la scelta eh di avere un setting aerodinamico più carico da parte di Red Bull ovviamente non ha pagato in gara però è eh non dobbiamo dimenticare per come abbiamo detto prima che forse l'evoluzione della pista rispetto allo scorso anno e la condizione di assenza di degrado per tutte le squadre e anche il fatto di avere avuto comunque due Mercedes competitive cosa che forse non si aspettavano all'inizio della gara ha portato questa scelta di un maggiore carico nell'ottica di dare la possibilità a Verstappen di uscire sulla distanza quindi avere più performance nelle fasi di finale dello stint e per fare questo è chiaro che uno dei modi è quello di avere un po' più carico aerodinamico per avere meno scivolamento della vettura e quindi avere meno degrado sugli pneumatici e poter avere una costanza di tempi quando gli altri iniziano ad andare un po' in difficoltà la dinamica della gara ha preso una via differente e quindi questa scelta non ha assolutamente pagato e questo lo possiamo dire qui in Belgio più in generale però è vero che eh a questo punto abbiamo assistito a più gran premi nella quale nei quali la supremazia di Red Bull è scomparsa cioè sostanzialmente evaporata del tutto e quindi direi che lo abbiamo visto in piste con caratteristiche molto diverse tra di loro e quindi penso che eh dal punto di vista dell'equivalenza di performance delle vetture in questa fase del campionato non hanno più il vantaggio che avevano prima e i giochi sono aperti se lo guardiamo nell'ottica dell'economia del campionato tuttavia eh vesta appena la fortuna di aver raccolto tanti punti nelle gare in cui la la Red Bull era molto forte e può beneficiare anche del fatto ed è successo anche oggi che pur in una giornata in cui le cose non hanno preso una piega positiva comunque Norris che il suo diretto inseguitore è arrivato dietro quindi tra virgolette il danno in termini di classifica di questa mancanza di performance delle ultime due gare soprattutto eh non l'hanno pagato è vero che adesso dopo la pausa estiva però non dimentichiamoci che la stagione è ancora molto lunga non dimentichiamoci che eh cioè non non è scritto da nessuna parte che tutti i piloti nell'arco della stagione non facciano mai uno zero può capitare un buon incidente può capitare un problema di affidabilità può capitare e probabilmente succederà l'introduzione di un'ulteriore power unit e quindi un'ulteriore retrocessione diciamo sulla greglia di partenza quindi eh forse la fortuna che hanno è il vantaggio attuale e la situazione che gli inseguitori si stanno dividendo tra loro vittorie e punti perché se se avessimo una McLaren eh che che con la con la situazione di performance attuale eh avesse raccolto in tutte le gare tutti i punti che sulla carta potevano fare con un solo pilota mettiamo Norris a questo punto la situazione in classifica e la tranquillità di Verstappen eh la giudicheremo in tutt'altro modo beh questo è un po' il il dito nella piaga di di McLaren perché probabilmente per questo è un mio giudizio che ho già dato anche in un'altra trasmissione eh diciamo che sta dimostrando da una parte hanno fallito molto occasioni dall'altra parte stanno dimostrando di non crederci che forse è la cosa peggiore abbiamo diciamo esaurito i temi anche dal punto di vista del commento ci siamo lanciati anche in una cosa un po' diversa dal solito eh io comincio a salutarti e ringraziarti come sempre per l'aiuto e le preziosi indicazioni che dai anche nei commenti di quello che abbiamo visto nella giornata di oggi quindi grazie Riccardo grazie a te Michele grazie a tutti quelli che ci seguono e ovviamente a tutti voi come al solito ricordo ancora eh la campanella per essere sempre informati sulle nostre iniziative a voi non costa nulla però a noi fa una grandissima differenza siamo anche vicini a un altro taguardo in termini di iscritti e tutto ciò ci aiuta moltissimo a prepararvi e a fornirvi dei contenuti eh ed essere più presenti in quelle che sono eh diciamo le vostre timeline le vostre preferenze eh una bella spoliciata per farci capire se questo video vi è piaciuto più che altro il formato eh fa di necessità di virtù stavolta siamo noi ad aver commentato il gran premio abbiamo cercato di bilanciare la parte tecnica con quello che è il commento diciamo editoriale a quello che è successo oggi eh commenti siamo sempre disponibili adesso comincia addirittura la parte magari le prossime puntate parleranno anche di eh quello che eh ci avete segnalato dal vostro punto di vista e eh come sempre io vi ricordo prima di lasciarvi che eh se continuate per imperterrici a non seguirci la eh alla prossima gara eh l'ingegner Stella parlerà male di voi dicendo che eh siete assolutamente degli idioti fondamentalmente come ha fatto con Norris per poi dare uno zuccherino al vostro collega di ufficio. Ciao, buonasera.